Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.RadioRomaLibera.org Come sono fatti i cristiani? Ci ammazzano se lo scoprono. E' il dialogo surreale tra Ali, Eshnai e suo padre. Quando era solo un bambino in Afghanistan. Eshnai è scappato in Italia alla fine degli anni 90 insieme a suo fratello. Aveva otto anni e da un giorno all'altro si ritrovò con la casa distrutta e senza mamma e papà. Quei genitori che gli avevano parlato di Gesù seppur tra mille raccomandazioni di non dirlo a nessuno. In Italia oggi è uno scrittore e professore, trentenne. Nei giorni scorsi aveva lanciato un appello ad Asia News e tramite la fondazione Meet Human era riuscito a portare in Italia una famiglia di cristiani nascosti in Afghanistan. Proprio nei giorni in cui c'erano le truppe americane che lasciavano il paese e iniziava l'instaurazione del nuovo governo dei talebani. Da giorni questa famiglia aveva perso le tracce del papà e Ali Eshnai si è immedesimato nello stesso dramma vissuto da bambino. Quello che ha raccontato nel libro che poi è diventato celebre Stanotte guardiamo le stelle. Una famiglia turcmena che aveva conosciuto su Whatsapp tramite un suo studente afghane che vive a Roma. Anche lui cristiano ma con lo stesso timore impresso nel DNA di chi è nato in Afghanistan di non dire subito a chi si conosce per quale Dio si crede. L'operazione che ha del miracoloso è riuscita perfettamente grazie alle informazioni fornite da Ali e all'impegno dei militari italiani. Quando questa famiglia è rientrata in Italia a lei li ha portati subito a messa e ha raccontato di averli visti piangere tutto il tempo. Questa famiglia gli diceva noi non siamo mai andati a messa, non avevamo questa libertà, è una gioia immensa. E Shazani si è fatto voce del dramma di tutti quegli afghani costretti a vivere la fede in Cristo in clandestinità e già prima del catastrofico ritiro delle truppe che abbiamo visto in queste settimane. La domanda che ci si pone è quanto resta raro il suo gesto, non il gesto di aiutare qualcuno in difficoltà ma di aiutare i cristiani in difficoltà perché siamo al cospetto dell'unica minoranza al mondo che è come se non esistesse. Dalle cronache giudiziarie, mediatiche, politiche, è l'unica minoranza per la quale non esistono tributi, per la quale nessuno si batte il petto o si inginocchia. Anzi, spesso viene rivendicata anche una certa discriminazione per questi ultimi. Per loro non esiste iniziativa degna di nota da parte della comunità internazionale. Basti pensare che già nel primo emirato islamico, quello negli anni dal 96 al 2001, si veniva uccisi perché cristiani, c'era una vera e propria caccia ai cristiani, caccia che è appena ricominciata, porta a porta. Essani racconta di aver scoperto, tra virgolette, di essere figlio di cristiani, ripetiamo, i suoi genitori sono stati assassinati dai talebani negli anni del primo emirato islamico, quando un compagno di classe gli chiese perché i genitori non andassero mai in moschea. E allora al ragazzino gli venne un dubbio. Oggi i talebani non si sono istituzionalizzati, come piace ripetere oggi e come è convinta persino una parte della politica nostrana. In questi vent'anni di esperienza occidentale, con il ritiro catastrofico deciso da Biden, sono stati consumati tutti i sacrifici e gli sforzi e l'incapacità di gestire la presenza delle truppe straniere ha esasperato l'ostilità afghana. Il portavoce del nuovo governo di Kabul ha chiesto all'Italia di riconoscere il nuovo governo, aggiungendo di essere amico intimo di Pechino e di essere interessato a quel progetto di nuova via della seta che il governo Conte I ha sottoscritto con orgoglio. E molti analisti si aspettano che l'appello accorato sarà colto in Italia, proprio mentre resiste il silenzio sul destino dei cristiani di Kabul. Chiunque identificato come cristiano sarà ucciso, lo hanno promesso. Mujahid ha ribadito da subito che qualsiasi diritto sarebbe ritornato nell'ambito della sharia. Ed è così che dopo cento anni la Chiesa Cattolica ha appena chiuso in Afghanistan. Missione compiuta Sono le parole affidate a Twitter da padre Giovanni Scalese, prete Barnabita, che dal novembre del 2014, superiore della missione cattolica su Iuris dell'Afghanistan, nonché Cappellano e l'ambasciata italiana a Kabul, dopo il suo rientro a Fiumicino col ponte aereo delle autorità italiane, ha comunicato in questo modo il suo rientro in Italia. Con lui in Italia c'erano anche cinque suore missionari della carità di madre Teresa e 14 ragazzini disabili, alcuni in gravi condizioni, assistiti dalle stesse suore in Afghanistan. Nel 1919 l'Italia fu il primo paese a riconoscere l'indipendenza dell'Afghanistan e per mostrare la sua gratitudine il governo aveva chiesto all'Italia come potesse ringraziare. Roma rispose chiedendo il diritto di costruire un luogo per il culto. Il governo afghano rimase spiazzato dalla scelta, perché l'Italia invece di chiedere vantaggi in campo economico, come i diritti per le esplorazioni delle miniere, aveva optato per un allargamento della libertà religiosa. Fu perciò inserita una clausola nel Trattato Italiano-Afghano del 1921, che le dava il diritto a costruire una cappella nell'ambasciata. L'opera pastorale iniziò nel 1933, quando Papa Pio XI affidò la cappellania dell'ambasciata italiana ai Barnabiti. Il cristianesimo però era arrivato in Afghanistan con gli apostoli San Tommaso e San Bartolomeo nel II secolo, dunque cinque secoli prima della nascita dell'Islam. Eppure dall'avvento di Mahometto sono diventati una minoranza perseguitata, i cristiani. Il 16 maggio del 2002 Papa Giovanni Paolo II istituì la missione sui Yuris per l'Afghanistan e nel 2004 arrivarono le suore di Madre Teresa per svolgere la loro opera umanitaria. Oggi, a seguito del fallimentare ritiro delle forze internazionali da Kabul, sia i Barnabiti sia le suore hanno lasciato il paese e di fatto la Chiesa Cattolica ha chiuso. Le suore rientrate in Italia hanno ammesso siamo distrutte, è tutto finito, non c'è speranza a Kabul. E' proprio così. Oggi i più grandi reati lì sono possedere una Bibbia e non indossare il velo. Nel paese i culti non musulmani sono proibiti per legge e convertire dall'Islam a un'altra religione o rinunciare ad Allah è considerato apostasia di un reato capitale. Le conversioni sono di fatto vietate. I cristiani non possono svolgere alcun tipo di evangelizzazione. Il cristianesimo, da diecenni, è vissuto privatamente in casa propria. La Corte Europea dei diritti dell'uomo aveva preso atto nella drammatica situazione della comunità cristiana in una sentenza del 2019. anche perché di fatto la Costituzione approvata nel 2004 conteniva elementi di ambiguità ma una contraddizione che nella vita quotidiana affida ai tribunali che applicano la sharia l'interpretazione e il giudizio sui singoli casi riguardanti blasfemia o apostasia. Chi crede in Cristo rischia il tradimento è stato anche dai membri della propria famiglia. L'autrice americana Mindy Bells ha riportato le allarmanti parole di un cristiano in Afghanistan nelle scorse settimane e dice una persona che lavora con le reti di chiese domestiche in Afghanistan riferisce che i suoi leader hanno ricevuto lettere di avvertimento dai talebani nelle quali c'era scritto «Sappiamo dove siete e cosa state facendo». Prima del ritorno dei talebani l'Afghanistan era già il secondo paese dove i cristiani sono i più perseguitati. Domani sarà sicuramente testa a testa con la Corea del Nord che detiene il primo posto in classifica da anni. La chiesa è nel mirino ma non interessa a nessuno eppure è bene che si sappia che si ripeta in Afghanistan ci sono i cristiani e vengono perseguitati. Oggi c'è RadioRomalibera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org